Centinaia di persone e una sessantina di comunità laiche e religiose si sono trovate ieri sera nel centro di Torino alla marcia di solidarietà per le vittime delle persecuzioni religiose nel mondo. Promossa dal gruppo interreligioso coordinato da Giampiero Leo con il patrocini e il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte, l'iniziativa è maturata nella cornice del Comitato per i diritti umani, il nuovo organismo istituito dall'Assemblea regionale per istituzionalizzare le occasioni di incontro e di confronto su temi più delicati. Uno spazio dove ogni diversità si è percepita come ricchezza e il contrasto a ogni forma di discriminazione si è inteso come un dovere per tutti. La tentazione di ritenere Dio dalla nostra parte per combattere in nome della sua e non della nostra volontà implica una visione distorta dell'umanità e della divinità con quest'ultima redotta idolo contro alcuni uomini e non per tutti gli uomini. Nascondere le responsabilità di scelte sanguinarie e odiose dietro una presunta conformità con la volontà divina è grave ma diventa gravissima se lo si adopera come giustificazione per l'uso della violenza, ha detto il presidente dell'Assemblea regionale Mauro Laus. Partita alle 20 dal municipio di Torino la manifestazione ha attraversato la zona di Porta Palazzo da sempre tradizionale punto di ritrovo delle comunità straniera Torino ed è approdata al Sermigh in piazza Borgodora dove hanno trovato spazio e voce molte testimonianze di solidarietà. All'appuntamento sono intervenuti tra gli altri anche l'arcivescovo e il sindaco di Torino Cesare Nosiglia e Piero Fassino, il vice presidente del consiglio comunale Silvio Magliano e poi rappresentanti del variegato mondo dell'associazionismo cattolico, ortodossi, valdesi, luterani, comunità ebraica, musulmani, induisti, buddisti e mormoni.